In questo video andiamo a parlare di fasce cardio da braccio, un'alternativa, punto di domanda, alla fascia cardio tradizionale? Beh, lo scoprirete in questo video perché ho testato ormai da un po' di tempo questo Wahoo Ticker Fit e l'ho monitorato e comparato proprio con la fascia cardio tradizionale, questa qui di Garmin con tanto di dinamiche di corsa. Sono prodotti che possono essere comparabili? Copritelo ora, voi mettetevi i commenti, adesso vi racconto tutto. Fasce cardio da braccio, le avevo già testate, in realtà un po' di tempo fa ne ho visti davvero parecchi di questi prodotti, come potete immaginare, però non avevo mai trovato qualcosa di soddisfacente, ogni volta che andavo a comparare i dati con la fascia cardio tradizionale rimanevo deluso. Il motivo è molto semplice perché questi prodotti, queste fasce cardio da braccio, adesso vi vado a far vedere come funziona, utilizzano il sensore ottico che vedete qua, che è praticamente uguale al sensore ottico che potete trovare in un orologio. E così come purtroppo gli orologi non sono mai al 100% comparabili con una fascia cardio normale, per tanti motivi, per la pelle, i peli sulla pelle, il movimento dell'orologio, la forma diciamo del polso, insomma ci sono tante purtroppo variabili che possono influire, anche queste fasce da braccio di solito non erano proprio il massimo, cioè si avvicinano più o meno ai dati di una fascia normale ma non proprio del tutto e se si va a utilizzare questi dati per fare appunto dell'analisi specifica, magari anche dei test aerobici per capire il proprio stato di forma, ecco che uno, due, tre, quattro o più battiti possono fare una grande differenza. E pertanto sono sempre rimasto con la mia fascia tradizionale. Che cosa è successo di diverso? Beh, un po' è passato del tempo quindi volevo vedere se ci fosse sul mercato qualcosa finalmente di funzionale ma soprattutto fosse stato avuto un problema con questa fascia qua che ha iniziato a darmi irritazione, stranamente perché in realtà io questa la utilizzo da sempre, da tantissimi anni, tutti i singoli giorni perché a me piace avere tutti i dati a disposizione e stranamente ho avuto appunto un'irritazione, mi ha dato un gran fastidio, addirittura avevo delle piccole racerazioni e ho dovuto proprio cercare un'alternativa per questo motivo. Te ho fatto bene a cercare un'alternativa perché finalmente ho trovato un prodotto che secondo me può essere comparabile con una fascia cardio. Siamo parlando del Wahoo Tick Fit, questa azienda americana che sta iniziando a fare dei prodotti estremamente interessanti e questo è sicuramente uno di questi. Il Wahoo Tick Fit è appunto una fascia da braccio che si può mettere in realtà un po' ovunque perché avendo il sensore, vediamo se riesco a farvelo vedere, ha il sensore ottico qua dietro esattamente come quello dell'orologio, l'importante è che questo sensore sia a contatto con la pelle e la si può mettere, diciamo, una fascia studiata per utilizzarla o così, diciamo, sulla parte del braccio o sull'avambraccio oppure come faccio io, io preferisco tenerla a questa altezza qua, basta regolarla e più o meno la tengo qua girata verso questa direzione. In realtà l'ho testata in tutti i modi, l'ho testata qua solo, l'ho testata qua, veramente non ci sono differenze sul rilevamento del battito. Questo tra l'altro è molto utile perché secondo me è prima di tutto leggera, comparata più o meno a una fascia cardio è sicuramente più leggera rispetto alla fascia toracica perché ovviamente ha meno materiale ma soprattutto è meno fastidiosa perché soprattutto se si trova il punto giusto, questo secondo me è molto soggettivo non si ha fastidio poi quando si va a correre e questo per me è una cosa estremamente importante visto che ho cercato appunto prodotti di questo genere proprio per l'irizzazione che stavo iniziando a darmi l'altra fascia. Questa qua in particolare in realtà c'è poco da spiegare perché ci sono pochissime funzioni, è molto semplice c'è un indicatore che ci aiuta a capire prima di tutto se la fascia è collegata o meno in questo momento non è collegata perché non ho avviato il collegamento con il mio Garmin e poi c'è il sensore qua dietro, molto semplice c'è questo pulsante che premendolo praticamente accende il dispositivo e una volta fatto il pairing con il proprio orologio tra l'altro si configura praticamente con tutti i modelli non solo Garmin, anche Polar, Coros, insomma qualsiasi prodotto si va praticamente ad associare indirettamente e attraverso il Bluetooth praticamente abbiamo il dispositivo ben collegato e possiamo iniziare a fare i nostri allenamenti ho trovato tra l'altro questa fascia comoda perché si lava facilmente e soprattutto Wahoo arriva già con un pezzo di ricambio quindi abbiamo una fascia di ricambio già nella confezione un'altra cosa molto interessante di questo prodotto è che dura 30 ore noi possiamo fare ben 30 ore di corsa senza doverlo ricaricare e questa tra l'altro è già una differenza con questa fascia cardio che sicuramente dura di più però ha lo svantaggio soprattutto questo qui di Garmin che ogni tanto non ci avvisa quando effettivamente la batteria sta per scaricarsi ovvero o ci avvisa quando praticamente la batteria è già morta e quindi non riuscirà neanche a registrare la corsa in corso o a volte proprio non te lo segna e quindi ti accorgi il ritardo che appunto la fascia non stava funzionando poi bisogna aprirla, bisogna andare a togliere la pila, rimetterla eccetera diventa un po' un lavoraccio questo invece si carica molto semplicemente con questo aggeggio qua che si attacca qua dietro e poi si attacca a qualsiasi porta USB e in poco tempo abbiamo la nostra carica ma la domanda ora che sicuramente vi starate facendo ok, bello tutto questo strumento ma funziona questa fascia cioè una volta che io la vado a impostare e trovare il punto più comodo per me ci sono problemi sulla tipologia di dati che andiamo ad avere a disposizione e qua appunto è stato il motivo diciamo un pochettino del mio testo perché come dicevo le altre fasce non mi hanno mai dato risultati attendibili l'ho voluta testare sia con dei lenti ma anche in allenamenti molto più complicati magari con delle variazioni, con delle ripetute ci ho fatto veramente di tutto ho provato ad utilizzarla bagnato, con tanto sudore l'ho posizionata in modi diversi insomma ho cercato di testare tutto quello che c'era da testare prima di tutto devo dire che questo strumento arriva con un'app l'app appunto di WAU da scaricare che in realtà non serve a niente cioè serve se non abbiamo un altro strumento per tracciare il nostro GPS allora l'app può diventare utile perché ti permette di avviare diciamo un allenamento direttamente da qua a tracciare con il GPS il tempo, il percorso fatto e appunto tutto il dato relativo al cardio però ovviamente chi ha un orologio come un Garmin sicuramente non ha bisogno dell'app infatti io l'app la utilizzo solo per fare i test ovvero registro sull'app tutti i dati o poi nel Garmin invece utilizzo questa fascia qui collegata e poi vado a monitorare diciamo le differenze tra i due poi un'altra cosa utile magari è vedere appunto se ci sono aggiornamenti del firmware da fare perché ogni tanto c'è un aggiornamento software da fare quello si fa direttamente all'app e controllare lo stato della batteria serve solo a questo insomma l'app si può benissimo evitare di utilizzarla io l'ho utilizzata ripeto per fare tutte le varie analisi del caso per esempio il 16 agosto ho fatto un test dove sono andato a correre circa 7 chilometri e mezzo poco meno 36 minuti di allenamento e sono andato a vedere un po' tutti i dati che ha tirato fuori questo strumento rispetto appunto alla fascia cardio tradizionale che ho sempre utilizzato e sono stato molto sorpreso nel vedere che la mia media di questo allenamento secondo il mio Garmin quindi diciamo affidabile al 100% è stato di 131 battiti al minuto e la massima raggiunto 155 guardando invece il dato del Wahoo la media è stata di 130 quindi un battito di differenza e la massima di 153 quindi stiamo parlando di due battiti di differenza 155 e 153 il che poi guardando e monitorando i grafici e guardando insomma come si sono comportati i vari picchi perché ho provato a fare degli allunghi all'interno di questo allenamento per vedere appunto come veniva preso il cambio di ritmo cardiaco devo dire che il risultato è stato eccellente cioè se vado a comparare i due grafici praticamente sono quasi identici quindi un battito in media di differenza su questo allenamento e due battiti di differenza con la massima però dopo ho fatto altri test in particolare ne feci uno molto importante il 16 settembre dove ho corso praticamente 20 km con diverse ripetute all'interno delle ripetute sui 3000 e qua diciamo che ho avuto dei risultati molto soddisfacenti perché la differenza praticamente tra la media e lo stessa massima sono state praticamente perfetti infatti ho corso 20 km con all'interno 4x3000 quindi con delle variazioni importanti di ritmo secondo la fascia di Garmin ho fatto questo allenamento con una media cardiaca di 153 e una massima di 176 se vado invece a vedere Wahoo la media è stata 153 quindi è esattamente uguale e la massima 175 un battito di differenza insomma tutti i miei test sono stati di questo genere le medie praticamente identiche se sballa sballa di un battito e le massime quasi perfette anche lì una variazione di un battito massimo 2 il peggio l'allenamento peggiore appunto ha avuto una differenza di due battiti e anche quando andiamo a comparare diciamo i grafici del battito del Garmin e quello appunto di Wahoo praticamente i risultati sono quasi identici ci sono delle piccole variazioni ma veramente percettibili che non fanno una grande differenza nell'allenamento quindi devo dire buonissimo il risultato proprio perché essendo un sensore ottico insomma mi aspettavo sicuramente molto peggio e posso dire che ora sto utilizzando questo Wahoo Ticker Fit come mio strumento principale cioè quando esco a correre utilizzo questo qua per tutta una serie di ragioni sicuramente più comodo non mi scivola non devo stargli a pensare più di tanto la batteria so di poterla monitorare molto velocemente e quindi va bene così chiaro è che invece quando vado a fare un test specifico magari sto facendo appunto il test Garmin come ho fatto l'altra volta oppure il test dei 20 minuti per monitorare con la perfezione esattamente il mio stato di forma attuale allora magari preferisco utilizzare ancora la fascia anche perché ha le dinamiche di corsa incorporate ha tutta una serie di funzionalità in più ecco una cosa da dire che questo prodotto non ha nient'altro rispetto appunto al registrare i propri battiti quindi è molto basico però quello che fa lo fa molto bene bene siamo arrivati alla fine di questo video scrivete qua sotto nei commenti cosa ne pensate mettete un like a questo video per favore e soprattutto iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto il 50% di voi guarda i video senza iscriversi al canale a voi non costa nulla a noi invece cambia la vita e vi ringrazio correte e fate l'amore ciao belle